Ma guardi è un momento per mettere insieme tanti amici, tante professionalità, tanti imprenditori, ma tante persone che vogliono dare il proprio contributo. Siamo presenti ormai ogni comune della nostra provincia, era giusto che era il momento per poter pianificare, poter radicare sul territorio anche con una squadra dirigenziale che possa anche supportare la crescita ancora, e vedrete le prossime settimane, esponenziale di questo partito che finalmente dà voce a tutti quei movimenti civici di estrazione cattolica che negli ultimi 30 anni sono nati e rinati nelle varie amministrazioni locali, che non hanno mai trovato una vera casa dove dentro poter garantire una presenza politica che rappresentare realmente i bisogni dei cittadini, troveranno all'interno della democrazia cristiana, lo stanno trovando quella casa giusta che manca da tanti anni. Quindi questo sarà il compito della prossima direzione provinciale, proprio di poter far radicare sul territorio. Quello che ci hanno insegnato tanti nostri amici nel passato deve essere portato attualissimo. La cosa importante e bella è che la democraziazione non è un partito vecchio, anzi è un partito giovane con le idee sempre attuali e che dobbiamo, grazie a quelle idee, dobbiamo rilanciare. Il buon governo dei territori collegati con il buon governo della regione sappiamo che chi ci sta accanto, principalmente il presidente Cuffaro, ma i miei colleghi, ma tutta la dirigenza regionale, che è radicata ormai nei 391 comuni siciliani, può dare veramente una sterzata verso il centro di quella che è la politica regionale. E vedrete che in Sicilia il centro non sarà più un satellite del centro-destra o del centro-sinistra. Il centro saranno le fondamenti, i pilastri, le travi portanti di un governo nuovo, dove, ahimè, queste esperienze ragusane sapranno che una parte, il centro-destra e il centro-sinistra, che dovrà dialogare con noi, non sarà più la parte trainante, ma saremo noi la parte trainante di un modo di fare politica diversa che è vicino ai cittadini. Oggi la dimostrazione dei tanti amici che sono qua per questo lo fanno liberamente, l'hanno fatto in questi anni, continuere a farlo ancora di più con un partito come la Democrazia Cristiana. E devo ringraziare veramente di cuore dal Presidente Cuffaro, ma a tutti gli amici che mi hanno dato questa possibilità di far parte di questa famiglia che prima, dicevo sempre, prima è radicata a modi, che poi si è allargata alla provincia, ora all'intera regione. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, ma questo è un momento di partire e auguro veramente un buon lavoro alla nuova direzione provinciale che avrà un compito importante di radicare nei 12 comuni della provincia di Ragusa e il partito per poter dare un supporto specialmente nelle prossime settimane alle 12 amministrazioni locali del nostro territorio. Ha riportato la DC nel territorio, che risposta si aspetta anche in previsione delle provinciali? Ma delle provinciali sicuramente è una parte importante, saperemo la nostra parte e credo che le nostre idee, il nostro modo di fare, la nostra esperienza sarà messa a disposizione di un ente importante come quello della provincia per avere un governo e per poter dare quei servizi che in questo momento stanno mancando. Quindi so dall'esperienza, perché la mia prima esperienza politica è stata fatta proprio alla provincia regionale di Ragusa, devo tanto a quelle esperienze e quindi in questi mesi, come diceva il Presidente Guffaro, abbiamo messo tutta quella passione anche perché proviene da lì. Se oggi sono qua, se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nella nostra città, stiamo facendo tanti momenti importanti anche di attività legislativa a livello regionale e lo facciamo grazie a quell'esperienza che ho maturato in quei cinque anni a Viale del Fante. Noi abbiamo ottimi rapporti con tutti, la cosa più importante è che siamo un partito, i nostri deputati, i miei colleghi coesi, credo che siamo una famiglia forte, importante e ci vedono come punto di riferimento, per questo anche gli altri partiti vedono noi come punto di riferimento del Governo regionale. Sappiamo che il Presidente Guffaro è punto di riferimento anche per la propria esperienza, per quello che deve essere anche nei momenti difficili del Governo, per poter dare quella stata giusta e dare le indicazioni giuste per poter andare avanti senza problemi, perché dobbiamo governare e dare risposte ai cittadini. Continueremo sicuramente a portare avanti i nostri disegni di legge, il nostro modo di fare. Abbiamo fatto tante in questi mesi, ne faremo tante altre, saprete che la quasi totalità dei disegni di legge che arriveranno nelle prossime settimane in Assemblea regionale e avranno o la firma o saremo noi relatori o abbiamo fatto un'impronta importante su quei disegni di legge. Quindi la democrazia cristiana è presente e grazie al nostro modo di fare sicuramente non mancheranno le riforme a questa Assemblea. Se le riforme si faranno, si faranno perché la democrazia cristiana ha dato il suo apporto e è stata in prima linea e ha lavorato giorno per giorno per poter fottare un'impronta nuova alla regione Sicilia. Io penso su tutti, la riforma sulle province, la polizia locale, gli enti locali, così come per quanto riguarda i consorzi di bonifica, così come per l'urbanistica. Sono tanti momenti importanti che abbiamo portato avanti. Abbiamo approvato già in commissione anche un disegno di legge importantissimo, forse unico ancora in Italia, sul parità di genere salariale che sappiamo che è anche per stare accanto a quello che è il mondo delle donne e sul lavoro. Quindi vedete quanto lavoro abbiamo fatto in un anno e quanto ne faremo ancora nei prossimi anni. Io penso che in questo momento sicuramente la democrazia cristiana in provincia di Ragusa sia almeno un quarto dell'elettorato della nostra provincia. In Ragusa come sarà in consiglio secondo lei? Guarda in consiglio tutti gli amici che si sono avvicinati alla democrazia cristiana saranno leali a supporto dell'amministrazione Cassì perché l'abbiamo sposata dal primo momento perché prima c'è un rapporto di amicizia, prima di un rapporto legato ai partiti politici. Quindi non si tradiscono i percorsi, non si tradiscono perché noi al primo posto vanno i cittadini e gli interessi dei cittadini. Quindi non possono stare tranquilli le amministrazioni locali che in tutti i comuni ci sono in questo momento. Consiglieri comunali che sono stati eletti nelle liste civiche e sono vicini anche all'esperienza democristiana e quel partito che sta crescendo ma che non verranno mutati assolutamente quelli che sono i percorsi fino alla fine di ogni attività, ogni legislatura. Dopodiché sicuramente la democrazia cristiana avrà la parte, penso e speriamo, da parte Leone nelle prossime tornate elettorali.